Ciao ragazze, come promesso eccomi qua per il tutorial della stola via Violet. Allora, questa è quella che avete visto nel video, nello short che ho fatto prima. È già un po' che la guardo, di solito questi fiori sono usati specialmente dalle ragazze turche, che fanno delle cose meravigliose. Finalmente sono riuscita a trovare uno schemino semplice per farlo. Allora, vi faccio vedere, è semplicissimo, eh? Questo è il fiorellino, quindi si lavora ogni singolo fiore e poi viene attaccato man mano nella lavorazione. Io ho deciso di farlo non uguale, cioè l'inizio e la fine rimangono uno più alto e uno più basso, perché poi in fondo qui metterò delle frangione, ora poi vediamo, insomma qualcosa poi mi inventerò. È un punto molto semplice. Vi faccio vedere, si lavora, sono catenelle e queste qui sono maglie alte, delle semplicissime maglie alte allungate. Allora, il filato che ho usato io è lo Stardust. Uncinetto, lo Stardust dice di usare il 3-3,5. Io qua ho usato un 4 per questo progetto. Vi faccio vedere, numero 4, perché mi sembra che rimanga un po' più morbida la lavorazione. Allora, iniziamo. Si inizia con 4 catenelle, quindi avvio, nodino, quanto filo? Meno, 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 che non si spreca niente. Ok. Il nodino di avvio e poi 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Queste 4 catenelle si chiudono in tondo con una maglia bassissima. Poi si fanno 6 catenelle. 3 sono la prima maglia alta. Le altre 3 sono la divisione tra una maglia alta e l'altra. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nel cerchietto si cerca il centro e si fa una maglia alta. In totale saranno 6 maglie alte separate da 3 catenelle. Quindi 1, 2, 3 catenelle. 1 maglia alta nel cerchietto. E siamo a 3 maglie alte. 1, 2, 3. Di nuovo 3 maglie alte. E un'altra maglia alta nel cerchietto. 3 maglie alte. Maglia alta. Adesso le contiamo. 1, 2, 3, 4, 5. 3 maglie alte. Ok, dovrebbero essere 6. Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Perfetto. 3 catenelle. E chiudiamo nella terza catenella. 1, 2 e 3. Con una maglia bassissima. Poi, 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo è già un petalo del fiore. Prendiamo, carichiamo il filo sull'uncinetto come per fare una maglia alta normale. Entriamo nello spazio da 3 catenelle e allunghiamo. Chiudiamo come una maglia alta normale. 1, 2, 3, Aspettate che mi srotolo il filo. Allora, siamo a 2. 3, 4, 5. È molto semplice. È una maglia alta. È una semplicissima maglia alta. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5. Ancora una. E 6. Allora, per contarle, si vede, fa proprio come la maglia alta, la spighetta sopra. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Da qui, si rifanno 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E si chiude nella maglia alta del giro precedente con una maglia bassissima. Quindi, ogni petalo è formato da 6 catenelle iniziali, 6 maglie alte allungate e 6 catenelle che chiudono il petalo. Quindi, si va avanti così per ogni spazio da 3 catenelle. Quindi, 3 catenelle, 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Carico il filo, spazio di 3 catenelle, maglia allungata. Tiratelo più o meno che arrivi, non più o meno, deve arrivare all'altezza delle 6 catenelle. e chiudiamo come si chiude una maglia alta. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5. C'ho anche il cane che ci fa compagnia, non so se l'avete sentito, eh. E 6. Poi ve lo farò vedere. Prossimamente vi presenterò il mio Rottweiler. Dice sì, Chihuahua, ma lui si sente molto Rottweiler. E quindi se la crede un po'. Allora, siamo arrivati a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nuovo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E chiudiamo di nuovo nella maglia alta bassa del giro precedente. 3 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maglia alta allungata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, vedete che si chiude. Allora, allunghiamo, ricarichiamo il filo come si fa con la maglia alta normale, no? Prendete il filo e lo caricate. Passate attraverso i primi due. E tutto qua. Allora, ne abbiamo fatte 3, 4, caricate il filo attraverso 2 e attraverso 2. Attraverso 2 e attraverso 2. Contiamoli perché nel frattempo mi sono persa. 1, 2, 3, 4, 5, perfetto. Ancora 1. E 6. Passo attraverso 2 e passo attraverso 2. 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi, maglia alta del giro successivo, nella testa chiudo con una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ricordatevi, ogni petalo inizia con 6 catenelle, 6 maglie alte al centro e finisce con 6 catenelle. Quindi, carico il filo, spazio da 3 catenelle, allungo, ricarico il filo, passo attraverso 2, passo attraverso 2. 2 e 2. Riprendo il filo. 2 e 2. È molto semplice, non è niente di che. Considerate di fare una maglia alta, l'allungate solo. La prima caricata del filo, invece che lavorarla così, come fareste normalmente, l'allungate. Allora, siamo a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella testa della maglia alta del giro precedente, una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi, altro giro, altro regalo. Caricate il filo, 2 e 2. Allungate, 2 e 2. Di nuovo allungate. È davvero di una semplicità estrema. Siamo a 1, 2, 3. Allungate. 4, 5 e 6. Questo Stardust ha delle tonalità di colori pazzesche e brilla anche un po'. Secondo me è l'ideale per questa stola. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi, 6 catenelle di nuovo. 2, 3, 4, 5, 6. E lo richiudiamo con una maglia bassissima nella maglia alta sotto. Altre 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E un altro giro di punti alti allungati. 1, allungo bene, carico il filo, chiudo 2 e chiudo 2. Allungo, ricarico il filo, chiudo 2 e chiudo 2. Siamo a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, adesso, avete visto che è veramente di una semplicità estrema. 2, 3, 4, 5, 6. Quindi sono 6 petali. Ora vi faccio vedere come attaccarlo al lavoro. Adesso mi sposto un attimo. Allora, guardate qua. Questo è il primo petalo. Ok? Quindi viene attaccato tramite le 6 catenelle che vengono fatte, in questo caso, alla fine del petalo e all'inizio di un nuovo petalo. Quindi queste 6 catenelle, quando finiamo le prime 6 maglie alte allungate, ci colleghiamo le 6 catenelle dell'altro fiore con una maglia bassissima e andiamo avanti. Ora ve lo faccio vedere direttamente. Vi mettete sempre con il lavoro appoggiato su una superficie piana, perché altrimenti non capite dove siete. Quindi rischiate di prendere i petali sbagliati. Quindi invece in questo caso vedete che è molto più semplice seguire la riga. No? Ok. Quindi appoggiate. Questo va attaccato qui praticamente. Ok? Quindi disfo un pezzetto, così vi faccio vedere dall'inizio come si attacca. Allora, ho finito le mie 6 maglie alte allungate. Prima di fare le 6 catenelle, quelle che finiscono il petalo, prendo il petalo dove devo attaccare. Vedete? Vanno attaccate qui. 1 e 2. Quindi prendo il primo, lo giro sotto, entro nella prima catenella. Lo riuscite a vedere? Quindi non nella catenella della maglia alta, ma quella proprio delle 6. Entro nella prima e chiudo con una maglia bassissima, così mi sono attaccata. Da qui faccio le 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E come ho fatto negli altri petali, nella maglia alta mi collego con una maglia bassissima. Ora attenzione, devo rifare e collegare l'altro petalo. Quindi 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vado a prendere il secondo petalo. Sempre nella parte dietro, nell'ultima praticamente catenella, entro e chiudo con una maglia bassissima. Qui io ho già le 6 catenelle del petalo nuovo. Vedete? In che posizione sono? Quindi da qui vado direttamente a finire il mio petalo. Quindi sono attaccata, carico il filo e vado a fare le mie ultime 6 maglie allungate. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso vi faccio vedere. Visto? L'ho attaccato praticamente ai due petali. Lavorando e finendo il secondo petalo. Chiaramente si va avanti così. Quindi adesso da qua attacco qua. E si prosegue. Allora, è veramente di una semplicità incredibile. Si può fare, secondo me, anche degli... Si possono fare anche degli scialli, secondo me. Sapete che a me piacciono molto. Ma guardate le tonalità di questo filato. È veramente qualcosa di fantastico. Ora, non so se riuscite a vedere perché si vede male. Ma luccica. Ha questo sbrillio. Leggero, leggero, leggero. Fine, fine, fine. Che secondo me è molto bello. Direi che lo Stardust è il filato ideale per fare questa lavorazione. Allora, siccome è il mio primo video tutorial e sono ancora in casa da mia mamma, mi sono un po' arrangiata con le combinazioni. Voi non potete capire cosa ho combinato. Ma, siccome io... È come se vi conoscessi da una vita. Vi faccio vedere cosa ho combinato. Guardate, ragazzi. Ve lo faccio proprio vedere. Guardate la luce che mi sono inventata. No, questo è un brevetto di mia figlia, ve lo volevo un po' dire. Quindi, per riuscire a farvi questo tutorial, voi non potete capire cosa ho combinato. E la regia che... Perché il cellulare, ovviamente, non sapevo dove appoggiarlo. Perché io ho tutto a casa. La regia l'ha fatta mia mamma. Eccola qua. Quindi, questo è il mio primo tutorial. Un po' buttato, un po' così. Ma comunque, spero che abbiate capito bene. Come si fa? È davvero di una semplicità incredibile. Bello. Molto, molto bello. Soffice. È veramente una bella stola, secondo me, questa. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate. Se avete dei dubbi o magari, insomma, siccome ho fatto un video un po' arrangiandomi, essendo fuori casa, fatemi sapere, perché eventualmente ne facciamo magari un altro. Ma io credo di avervelo spiegato abbastanza bene. Ragazzi, un abbraccio a tutte. Ciao, ciao!